Luca Monticelli, DJ produttore da ormai 20 anni, hai lavorato con le etichette più prestigiosi in Europa e sei tutt'ora in attiva. Quali sono i progetti che hai? I progetti che ho sono sempre tantissimi e ho sempre molto entusiasmo in tutti questi progetti. Quello principale è con il team DocMC di cui siamo host di questo evento, quindi con Bruno e Mauro e stiamo lavorando veramente a tantissime tracce, alcune sono già finite e fanno parte di collaborazioni a livello internazionale molto prestigiose per noi. Le altre sono delle tracce che stiamo per concludere come team DocMC e credo io sono molto soddisfatto di questi progetti, credo che possano avere un ottimo futuro. E cosa ne pensi di Italian Tech? Io sono arrivato oggi a questa manifestazione veramente con un'attitudine molto positiva e ho trovato un ambiente stupendo, i ragazzi giovani con tantissima voglia di collaborare nei nostri studi c'è veramente un fermento incredibile, tutti i ragazzi si stanno conoscendo tra di loro, stanno lavorando attivamente al progetto, chi ha la parte melodica, chi ha il drop, ma con un entusiasmo incredibile. Io sono il primo veramente, sono la persona più entusiasmata perché mi piace tantissimo vedere che dei ragazzi giovani affrontano una traccia con tantissima professionalità e hanno delle capacità veramente incredibili, nonostante alcuni di loro abbiano 20 anni, una cosa pazzesca. Io alla loro età non ero assolutamente in grado di fare quello che stanno facendo loro oggi, quindi sono orgogliosissimo. Volevo chiederti se c'era qualcuno di particolarmente meritevole, ma da quello che ci hai appena detto tutti vanno la loro parte, insomma. Veramente, sì. E un'altra cosa, come ti senti infatti ad essere host in Italia insieme a Dottor Scevere Mauro oggi? Come ho detto prima, e lo ripeterò all'infinito, sono ancora orgogliosissimo. Ho visto un livello altissimo e dei ragazzi preparatissimi con un entusiasmo incredibile. Da sottolineare che hanno aderito pienamente alla nostra iniziativa e con lo spirito giusto, visto che stiamo facendo qualcosa di... oltre per noi stessi, oltre per accrescere la nostra qualità, il nostro livello produttivo singolarmente, ma lo stanno facendo anche a livello di beneficenza, visto che i proventi della traccia che stiamo per concludere e che ha una potenzialità incredibile, perché vi posso assicurare e chi sta vedendo in diretta streaming su YouTube se ne può rendere conto sia a livello melodico che vi drop. La traccia è bellissima e sono sicuro che avrà come scontro positivissimo e invito tutte le persone che stanno vedendo la diretta streaming, tutte le persone a cui arriva questo messaggio, ad acquistarlo perché i proventi andranno per le popolazioni colpite dall'alluvione in Sardegna. Quindi, oltre ad essere una bellissima occasione per stare tutti insieme e per condividere le nostre conoscenze, è ancora una bella occasione per fare del bene a chi non ha bisogno. Va bene, io ti ringrazio e ti auguro una buona giornata. Anche a te, buon lavoro. Ciao ragazzi! 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 Ciao ragazzi!